Roma, 20 ottobre, sono le 7-20 di mattina, sembra che è notte, notte fonda, via Ponte degli Incastri, macchine ferme, la via che è un torrente di acqua melmosa, macchine che vengono spinte, il cielo, che è come un film di horror. Le persone tentano di portare via le macchine, fanno quello che possono, è un fiume d'acqua che non si arresta.